Tra le cure che spesso assumono poca risonanza ma che invece rivestono una grande importanza per i pazienti, figura la terapia del dolore che, presso il reparto di anestesia e rinimazione dell'ospedale di Senigallia, riveste un grande spazio con 4 ambulatori a settimana e un bacino di utenza che abbraccia una vasta zona comprensoriale. A questi si aggiungono due sedute al mese di procedure invasive in sala operatoria, oltre a un altro ambulatorio per i circa 100 pazienti che assumono cannabis terapeutica e le specifiche giornate dedicate a pazienti oncologici. La terapia del dolore consiste nell'alleviare il sintomo dolore al paziente. Questo può essere da un lato una terapia solo del disturbo ma anche una terapia della causa che determina il dolore. Per cui noi proponiamo una presa in carico complessa, duratura, nella quale si prescrivono farmaci, si eseguono infiltrazioni oppure ci sono delle procedure più complesse che si svolgono in sala operatoria e questo mira nel 100% dei casi dell'attenuare il dolore ma soprattutto spesso di partecipare al processo di guarigione della causa che ha determinato la sofferenza del paziente. Si è ampliata la rete di gestione dei pazienti fragili e oncologici dove i medici garantiscono anche le cure palliative. I pazienti sono seguiti ambulatorialmente o in telemedicina secondo necessità anche con prese in carico al domicilio. Recentemente è stata implementata l'offerta terapeutica per i dolori cronici non oncologici come le cefalee e le nevragie dell'etrigemino dove a essere colpiti sono pazienti spesso giovani. Anche il giovane si ammala a malattie reumatiche, a malattie come il diabete o patologie nervose. Poi ci sono tutti quei dolori legati agli incidenti stradali o ai traumi da sport. Per cui con le terapie infiltrative, con le terapie neuromodulative si riesce a venire incontro a questi disturbi e a ridare l'autonomia alla persona. Il centro di Senigallia partecipa al progetto formativo della rete regionale della terapia del dolore finalizzata ad uniformare i percorsi assistenziali in tutto il territorio marchigiano. Per cercare di uniformare la presa in carico e l'offerta terapeutica in maniera tale che rispettando anche le dimensioni degli ospedali ci siano dei centri AB e dei centri SPOC a cui destinare i malati più complessi.